Presentato stamani il programma dell'organizzazione, il documento programmatico che, domenica 11 marzo, presso il cortile Platamone, sarà oggetto dell'assemblea congressuale di fondazione del movimento giovanile di Fli, denominato Generazione Futuro. Merito, legalità, dovere, identità, radicamento territoriale, rinnovamento delle classi dirigenti, alleanza fra le generazioni, riforma della scuola e dell'università, lavoro, riletture dell'economia, centralità delle nuove generazioni nel processo di sviluppo politico, sociale ed economico dell'Italia, saranno gli elementi che caratterizzeranno il costituito movimento giovanile. Il momento giovanile Fli chiaramente si richiama a un principio di rinnovamento della politica, che è il messaggio che il Presidente Ifini ha lanciato al congresso fondativo del partito a Milano. Noi credo che siamo un esempio per quanto riguarda il rinnovamento politico, abbiamo un'età media che è sotto i 24 anni, quindi una classe dirigente nuova che si sta strutturando sul territorio, che oggi conta più di 320 iscritti nella sola provincia di Catania, presente in più di 20 comuni, sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi andremo a chiudere gli altri 38 comuni che mancano nella provincia, quindi un movimento giovane, in movimento verso un'Italia nuova. Ecco, dal congresso di domenica cosa vi aspettate? Un congresso sicuramente unitario in cui si dimostrerà una coesione e una voglia di fare che manca nella politica dei grandi. Grazie.